Il bilancio del coronavirus in Irpinia fa segnare un lieve rallentamento rispetto agli altri giorni. Dieci casi positivi registrati nell'ultimo aggiornamento su 80 tamponi eseguiti all'ospedale Moscati di Avellino. Attualmente, dunque, si contano 12 decessi e 153 pazienti contagiati. Inoltre, con l'ingresso di Lacedonia, che in un colpo solo segna 5 residenti affetti da Covid-19, i comuni della provincia interessati all'estensione dei contagi sono, fino a questo momento, 32. Con Ariano, che continua a lievitare, anche se rispettando un trend molto più contenuto rispetto alla scorsa settimana, crescono anche i casi a Mercogliano e Solufra, mentre a Cervinara arriva il secondo tampone positivo. Ecco dunque la mappa in Irpinia. 68 casi ad Ariano Irpino, 10 ad Avellino, 8 a Flumeri, 7 a Mercogliano, 5 a Mirabelle Clano, Scampitella, Lacedonia e Solufra, 4 a Chiusano San Domenico, 3 a Venticano e Monteforte, 2 a Melito, Forino, Gesualdo, Grotta Minarda, Villanova del Battista, Lauro, Trevico, Savignano e Cervinara, 1 a Cesinali, Castelbaronia, Monte Calvo, Monte Fredane, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Bonito, Valle Saccarda, Bagnoli, Pietra dei Fusi e Taurasi.